Ciao a tutti ragazzi, allora io sto bene, me lo state chiedendo in tanti, però non sto molto bene, nel senso può sembrare quello che volete, può sembrare finto, però io non me la sento di far uscire la ricetta di oggi pomeriggio e neanche domani usciranno video. Non uscirà soprattutto il gameplay, che lo dovrei registrare adesso e sinceramente non mi va di mettermi a fare il deficiente, quindi purtroppo quello che è successo, il telemoto è successo vicino a casa mia, conosco persone che vivono in quelle zone, quindi ragazzi non me la sento, non so per la ricetta di domani o se se ne parlerà direttamente lunedì, non lo so, comunque ragazzi spero che condividiate questa mia scelta, ricordatevi le views non sono tutto. Ci vediamo ragazzi, ciao a tutti.